allora dottor slip e dottor strange sono due film di di fantasia diciamo tra virgoletti dottor strange praticamente poi c'è un chirurgo adesso non mi ricordo bene plastico comunque no anche neurochirurgo perché metteva le mi ricordo che metteva le pinze dentro la testa ed era un fenomeno ma allo stesso tempo era anche molto spaccone diciamo insomma girava con le ferrari eccetera fino a che non fa un incidente con l'auto e cambia tutta la sua vita perché le mani gli rispondono più e quindi fa un viaggio in oriente per cercare di trovare qualche soluzione non con medicina e alternative quindi inizia un percorso di sviluppo personale che lo porta appunto ad acquisire poteri magici e quindi succedono cose cose particolari e questo è un film appunto che ci fa oggi da un attimo un focus sul sul mondo delle robe quindi delle esperienze estere corporee del sogno lucido e quant'altro e quindi sono comunque è un film di animazione di immaginazione fantasia ma fino a un certo punto mentre 3 8 sleep sempre siamo sempre sull'animazione in questo caso warner bros è la produzione l'altro nell'altro caso era marvel 8 sleep appunto c'è un gruppo di mezzi strani mezzi ip che fanno che ammazzano vanno a cercare bambini vanno a cercare ma e li ammazzano per respirare l'aria che emanano insomma cose così finché non incappano in un bambino di un talento un po fuori dalla norma e come quindi si innesca questa una questa lotta il bambino aiutato da un signore un po maestro insomma che aveva che era un po rugginino in tal senso quindi anche questo ci dà qualche istruzione qualche cenno qualche indicazione nel campo del sogno lucido della delle robe ok mettimi like e quant'altro se ti è stato dovuto vedere il video ciao